Il nostro corso gratuito fa la guerra in Albania e se montagna a Ciappairà negare tutessi della fermata e fa m'occhietto per pensare per mancata in fuori buscata e n'è pescata e una fusilata ma vi, ma vi, ma vi a s'ambitura, chapa e boca dormire can, niente malà ma vi, ma vi, ma vi quaranta di, quaranta noi s'patute su, s'patute jo e s'un del buei che parlerà e il comissario in a patina e non mi manda a Ciappairà noi siamo a casa, non sente alcuno e il me diceva scorretto e il me diceva gli ruoli compagni poi le figliassi anche senza di te ma se parlasse di tua patina il tuo mondo vuoi la libertà fesso tu sei, se esti contento e stare solo chiusa a ca' te roma di, ma vi, ma vi quaranta di, quaranta notti s'patute su, s'patute su, s'patute jo e s'un del buei che parlerà so sarà giù e sarà giù piena di nebbia, di frecce, di scu so testi di un passaggio e la ricassa vita e il pediglia e il corsa estrempe in giornasera e senti mal come in caffè cucina e talenti in le campi e il padre deve essere rovere il su le pesche in guerra sta sulla terra la libertà la libertà si ha da ma di, ma di, ma di ma di quaranta di, quaranta notti a sangitura, charpa e pot torni di cam' ti è demana ma di, ma di, ma di quaranta di, quaranta notti Spatue del suo, spatue del giorno, e ci sono dei quelli che parlano. Grazie a tutti.